Quale sviluppo possibile per il Castello Aragonese, il nostro grande monumento che conoscono in tutto il mondo? Clementina Petroni. Sì, allora io ritengo che il castello ha delle potenzialità straordinarie e quindi dovrebbe essere valorizzato al massimo perché ritengo che tutti gli ospiti che vengono da ogni parte del mondo debbano vivere questo bene come qualcosa di veramente eccezionale, di bello. E quindi, infatti, dico questo, quando andavamo con Antonio nei siti archeologici antichi, dicevamo quando tornavamo alla macchina stiamo tornando alla civiltà, cioè deve essere un tuffo nella storia. Quindi chi fa un tuffo nella storia esce fuori, come dire, sono stato nella storia del castello, dei 2500 anni del castello, perché questa è una cosa alla quale io ci tengo moltissimo. Infatti cercherò chiaramente, non voglio essere polemica, ma soprattutto voglio essere dare suggerimenti a mio figlio che è molto giovane e quindi deve entrare in questo ingranaggio che è il castello, che non è certo semplice, quindi ha bisogno chiaramente di suggerimenti e chi è che glielo può dare se non la mamma che ci vive là da 42 anni e mi sono sempre piaciuti i siti antichi. E questo lo sanno tutti. Quindi io cercherò sempre di pungolare mio figlio, di suggerire, per valorizzare al meglio tutto ciò che è il potenziale, perché il potenziale che c'è adesso è poco quello che è venuto fuori. Mettere in luce quella che è la bellezza del castello, di modo anche far uscire fuori un parco archeologico, di modo che le persone, i turisti, possano anche fermarsi lì a godere del posto e non fare una corsa dopo mezz'ora ed uscire. Questo è molto importante, far sì che vengono messe delle fontane in alcuni posti, di modo che si possano rinfrescare delle panchine nei punti in cui c'è una bella visuale. Beh, tengo una lista lunghissima di cose da suggerire, chiaramente il tempo a disposizione è minimo. Quindi avrò occasione, spero che voi mi diate la possibilità in un altro momento, anche di parlare di questi suggerimenti che voglio dare a mio figlio. L'importante è che non mi vengono messi i bastoni tra le ruote, perché purtroppo finora è accaduto. Quindi diciamo che devo fare una bella fatica al castello per far sì che il bello venga fuori. Conosco ogni pietra, abbiamo scavato io ed Antonio con le mani per far uscire fuori i lavatoi, le cisterne delle vestigianti, che poi Antonio chiaramente chiamava gli operai. Abbiamo scavato per far venire fuori le pietre lavorate del castello, che sono altrettanto belle e voglio che vengano messe lì in esposizione, come se fossero dei piccoli monumenti, dare il meglio al turista che viene. Perché oggi io noto che il turista si fa una corsa, va via, ma poi alla fine che bel panorama, dice. No, io vorrei sentir dire, abbiamo fatto, siamo entrati nelle pietre, siamo entrati nella storia e quando il turista esce dal castello e dice questo, vuol dire che abbiamo raggiunto un minimo di obiettivo.